Vi canterò un pezzo che è un estratto di una operita tango. È stato il primo lavoro in cui Piazzola si è messo insieme a Horacio Ferrer, questo poeta straordinario dell'Uruguay. E hanno cominciato insieme a lavorare perché Piazzola diceva che Ferrer scriveva come lui componeva. Maria de Buenos Aires Io sono Maria, di Buenos Aires, di Buenos Aires Maria no venga, sono io Maria Tango, Maria della Raval, Maria Noche, Maria Pasione Pertal, Maria del Amor, di Buenos Aires sono io Io sono Maria, di Buenos Aires. Io sono il primo lavoro in cui Piazzola si in questo barrio la gente pregunta Io sono Maria, di Buenos Aires sono la più brutta cantando e amando anche. Io sono i loro, mia domni... Io sono il primo lavoro in cui Piazzola si è la prima della Raval, è stato in questo barrio la gente? Io sono l'Otta io, ma via... Io sono il primo которое cioè... Io sono la prima cosa che miaginano. Io sono i loro in cui Piazzola? Io sono la prima cosa che miaginano. Io sono in questo barrio la mia e ci ricerano. Io sono i questi sono i sei lo sapienti e miaginano. La mia mamma sognò, perché il giorno è oggi, con il ayer reto e scegliere. La mia mamma sognò, perché il giorno è oggi, con il ayer reto e scegliere. La mia mamma sognò, perché il giorno è oggi, con il ayer reto e scegliere.